come un maxino che mi gira intorno oddio i capelli di cosa non hanno caricato la texture dei capelli di falc regà c'è una foglia non è tornato è tornato beh com'è che si chiama kernan senti questa fuori buio pesto alla genovese è la terza volta che sento sta minchiata non la regola quarta e vincoli con proiettili perforanti e lanciatori del tuo canto qualcuno mi vuole stato io non posso spawnare e esplodere io vedo un medico che mi guarda e non mi incula eh beh meno male cazzo meno male che non che non procede poi non c'è chi poi come scout chi mi consigliate come scout vai col primo ma il fucile da cecchino o la classe cecchino no la classe prendo cosa rao o pike e poi il rush proviamo il rush come funziona il rush per rimonta impigli i miei che spari aspetta i che si carichi e spari cambi il metodo di sparo con quell'arma lì cambiando il caricatore c'è quello full auto quello in mezzo è la raffica e poi c'è il cecchino ma raga in questa cosa non fa una game manco da vicino come fai? io usi full auto eh ma devi sempre ricaricare non è facile infatti quando inizia a sparare è molto forte ma deve inizia a sparare ma deve inizia a sparare è ora di ricaricare ho scoppiato una gran puttana con il fucile a pompa temico segnalato ii scuolo che era a scuola con te in francia quello lì è proprio lui madonna che scioltata che mi ha tirato sto ho bisogno d'aiuto grazie vada io non lo so ma io non lo so tutta colpa di car eh ho visto infatti sono sceso si hanno fatto fanno managra no volevo vedere come andava a finire questo coso ce la fa salvarsi con l'elicottero lì? stiamo catturandolo che attivo solo 2 vabbè lì? ce la fa? perry si max è un po' messo male io? sono morto proprio non è che sono messo male ma è più messo male di morto zichella guarda ancora questo guarda ancora sti diota qua sopra madonna che pelo che ha fatto questo eh non gli faccio danno niente questo lo distruggi i don't trust lui you don't trust me? non lo trust me? non lo trust me non sei un uno che piace le periferiche trust insomma no per niente proprio dici? no per niente proprio ma sono le periferiche migliori del mondo max va bene va bene compra no ma no sono le periferiche migliori del mondo ma non posso mettere un mirino più zoomato? devi sbloccarlo devi sbloccarlo oh oh minchia 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 peri hai fatto una cosa giusta mo ma non ho trovato una cosa bellissima una cosa giusta ma hai fatto una cosa giusta se vuoi ti dico che non l'hai fatta però hai fatto una cosa giusta ma sembra così ma ne ho fatta solo una capito? tutta la mia vita uno in meno uno in meno ma prechi passavo qui da sta parte ecco ma guarda che pezzi di merda sdraiati guardi perché sto facendo la retromarcia da solo senza che clicco ne niente non prende neanche colpi sto coso no ma fa danni pure ai veicoli sto coso si avevo perso un altro che era entrato in modalità Michael Jackson per i cavoli suoi proprio senza che cliccava un uva se ne andava indietro quanto gli fa danni ai veicoli? due o tre almeno almeno due beh però questo rompe il cazzo poi il danno fai da uno a cinque in base al vicolo al punto in cui colpisci cinque gli ho fatto a caso dà fastidio e uno non è un problema quando ti spavano tipo in cinque quel coso grande sì ottimo lavoro di nuovo guarda il tornato che tiro sui pezzi di nave guarda il tornato che tiro sui pezzi di nave guarda il tornato che tiro sui pezzi di nave fra cantami cantami una canzone di natale cantami una canzone di natale fammi sentire la canzone di natale fammi sentire un po' di spirito natalizio romano l'avete mai visto voi quel film della... della... della wall disney con i fantasmi del natale passato sì c'era la bambinone e sono morto un po' stanco per giocare un digigli la cazzo ho fatto fra ce ne sono un po' qua eh si stanno riprendendo la flag bisogna fermarli eh lo so io lo so tiracelo fuori fra tiracelo fuori faccelo vedere guarda che sono esplosi tutti è stato... è stato... no è stato per pari ci ha fatto il jingle bell proprio c'è 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 ma baby jingle bell jingle bell jingle all the way oh mi fra ma risura santa spin ma salei hey e' gi perché cioè erano tutti non dico contenti però normali del fatto che avevamo vinto c'era per in mezzo a tutti che si guardava i piedi sembrava tipo consolatissimo un po' un po' un po' un po' un po' e un po' Grazie a tutti.